Brava Ale, vieni qua, mettiti qua di fianco a me, dai, te sei da prima, oh, con calma, allora, e domani entri nella casa, poi il grande fratello ti dice tutto, va bene? Ok, ma figurati, grazie a te, no, sei l'unica presente, gli altri sono altri, oh, è bello, fai.